Salve a tutti gli amici di TechDifferent, siamo qui con l'unboxing delle auricolari wireless AOK Bene, procediamo con lo spacchettamento Qui troviamo subito i gommini di scorta per gli auricolari Poi come vedete abbiamo un pratico sacchettino dove potremo inserire i nostri auricolari Quindi portarle in giro tranquillamente non tenendole nella tasca così sciolte ma in questo pratico sacchettino Poi abbiamo il cavo USB, micro USB per la ricarica Qui abbiamo il manuale di istruzioni che ci dice subito che sono Bluetooth 4.1 Quindi compatibili con l'ultima versione del Bluetooth Poi abbiamo anche il certificato per la garanzia Che ci indica come fare per usufruire della garanzia Dovremmo registrarci sul sito AOK ovviamente Poi avremo un'altra parte dove dovremo compilare con i nostri dati e il numero di serie delle auricolari Eccoli qua, auricolari sportive, andiamo subito a toglierle Eccole qui Vedete subito che hanno un cavo non rigido quindi molto flessibile Abbiamo, eccole qua, le auricolari con i suoi gommini già applicati Quindi oltre a quelli che avete in sostituzione ci sono già dei gommini preapplicati Abbiamo le, queste che sono le auricolari, vediamo da vicino Qui abbiamo l'ingresso per la ricarica che non è molto comodo Ci vuole una graffettina per aprire questo vano Comunque ce l'abbiamo fatta Eccola qua Per l'ingresso micro USB per la ricarica logicamente Andiamo a richiuderlo Poi andiamo a vedere sull'altra auricolare Dove troviamo il bilanciere del volume E il microfono per le chiamate Come possiamo vedere, eccola qua Questo è quanto Ringraziamo AOK per avercele inviate E ringraziamo anche voi per la cortese attenzione Ciao